Salve a tutti ragazzi e benvenuto dal vostro Dark Chaos 92, tanto la webcam è cazzi sua, ok perfetto Oggi siamo qui con questo nuovo video perché come avete detto dal titolo vi farò vedere le skin nuove Che usciranno e che sono anche già uscite comunque già sono direttamente nell'immagine Io che dire vi lascio direttamente il video ragazzi, buona visione mi raccomando, tanti like, commentate, condividete E supportatemi con, cioè nel senso iscrivendovi al mio canale e attivando anche la campanellina Più siete attivi meglio è per tutti noi, non solo per me ma anche per voi Vi ringrazio ancora per la visione e speriamo che vi piaccia il video e niente, a presto, ciao belli Eccoci qua ragazzi, come potete vedere ecco le nuove skin che dovranno e che sono anche uscite Ma non è tutto ragazzi perché oltre ad esserci l'uovo che vedete qua alla mia destra E ci sono tutte le altre cose, vedete qua sopra c'è il coniglio che è già uscito, lo shuttle che è già uscito E tutte le altre cose che vedete, io per esempio aspetto anche il Warpaint che sarebbe la seconda fila alla quarta posizione Che è molto 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 carino, il Raven è già uscito come potete vedere E niente, queste sono praticamente tutte le skin che sono uscite e che devono ancora uscire Ma non è tutto ragazzi, non è tutto perché io apro, oh ok ho sbagliato Io vi apro l'altra immagine, eccola qui ragazzi E' una cazzo di figata, l'avete visto questa qua? Questa ragazza qui è qualcosa di figo, con il draghetto, è assurda Poi c'è l'alieno e c'è anche dall'altra parte della mia webcam, dalla parte opposta Ci sta anche il tizio a forma di pomodoro che sarebbe tra virgolette il pomodoro che ci sta a tomato town Che è molto figo, c'è la borsa, ci sono tante robe Vedete là sopra di me ci sono tre emote Che la prima, quella nel mezzo è uscita già, è uscita precisamente ieri E ci sono altri due che devono uscire ragazzi, ma è veramente qualcosa di figo Queste skin io non so se le ha già viste qualcuno Ma dato che voi siete dei miei iscritti, quindi delle persone che seguono me Io vi faccio vedere quello che so e comunque vi porto questo tra virgolette spoiler Che è molto figo Ragazzi, che dire, questo video è durato poco, però comunque era per farvi vedere le nuove skin Perché sono davvero fighe Vi faccio rivedere appunto le skin dell'altra immagine che potete vedere qui in sovraimpressione Sopra di me E niente ragazzi, io veramente, cioè queste skin sono davvero 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 belle, belle, belle Io non so quanto varranno probabilmente un 2000 o un 1800, quello che sia Però sono davvero molto 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 fighe La... come si dice? Poi c'è il Warpaint che è troppo figo C'è Rose del team leader che è assurda È bellissima che è quella sopra di me, sopra lo shuttle Cioè sono davvero davvero belle Qui ci sono anche il draghetto, il piccone al draghetto ragazzi, che è una cosa assurda e fighissima Niente ragazzi, io vi ringrazio per la visione Noi ci possiamo vedere precisamente o più tardi con una live o prossimamente con un nuovo video Ragazzi, che dire, mi raccomando di lasciare il pollice in su Commentate, condividete, sono iscritti, iscrivetevi E niente ragazzi, il prossimo appuntamento è col vostro del caso 92 Mi raccomando, sempre attivi Attivate la campanellina e supportatemi con una piccola condivisione Bella ragazzi Ciao